Quando lo sport e la salute chiamano, Paolo Bonolis risponde sempre. Oggi si parla di prevenzione per la pressione alta, l'ipertensione. Bene, io ho la pressione bassa invece, fortunatamente, però mi hanno levato con questa partita di oggi tutto il resto che c'avevo sano. Per cui ora purtroppo la giornata è per la pressione alta, tutto il resto non viene compreso, per cui credo che andrò a morire a casa. Speriamo di no, insomma. Può essere, non mi è rimasto più niente. Com'è andata almeno la partita? Ho anche perso, è proprio la chicca, il gioiellino sulla giornata. Ne farai altre durante tutta questa organizzazione oppure no? Oltre tomba, ora appena risorgo, attendo la prossima Pasqua, e una volta risorto gioco un'altra partita, sono morto. Va bene, allora ci vediamo alla prossima partita, grazie. Grazie amica mia, buona giornata, in bocca al lupo. Grazie a tutti.